Buongiorno amici e ben ritrovati noi siamo stati in questi mesi a casa in quarantena mentre quanto vedete gli afidi non hanno rispettato la quarantena e hanno iniziato a moltiplicarsi sopra le piante di melograno soprattutto colpiscono la nuova vegetazione e i boccioli fiorali in questo caso si parla dell'afis punice ed è appunto un'afide che colpisce principalmente il melograno sottrae linfa e soprattutto produce una melata che ha come una sorta di effetto lente quindi fa sì che le foglie imbrattate dalla melata si bruciano è possibile combattere efficacemente con rimedi naturali quest'afide infatti domani farò appunto un passaggio, laverò le piante con un sapone molle si possono anche combattere gli afidi con dell'olio bianco oppure con l'uso di piretroidi ammessi regimi di agricoltura biologica allo stato dei fatti il regime di agricoltura convenzionale ha messo soltanto un prodotto per un periodo di tempo limitato quindi fate attenzione a non utilizzare altri prodotti altrimenti al momento della vendita avrete grossi problemi nell'effettuarla buon proseguimento spero che i miei consigli siano stati utili e alla prossima ciao